Allora Gaetano, grazie intanto di averci ospitato qui in questa bella struttura, tu sei il tecnico dell'asile dell'agricoltura, quindi il tuo lavoro è fare la consulenza, quindi non è, finisce nella vendita del prodotto, ma l'assistenza tecnica dell'agricoltore. Bene, in questi anni com'è cambiata la richiesta un po' di utilizzo degli stimolanti che tu hai visto in agricoltura? Sì, è cambiata perché oggi il mercato richiede, i clienti richiedono molto più stimolanti, perché dobbiamo aiutare soprattutto il produttore a produrre di più e a produrre di qualità, perché dobbiamo andare poi anche a confrontarci con il mercato internazionale, ormai i nostri produttori devono andare a confrontarsi, quindi dobbiamo aiutare i produttori a produrre soprattutto di qualità. Bene, e il biostimolante, dove ti diventa? In cosa l'uso principalmente? Il biostimolante ci può aiutare soprattutto nell'assorbimento radicale, ci può aiutare soprattutto anche a fare un bel apparato radicale, ci può aiutare soprattutto anche a superare gli stress cosiddetti chiamati abbiotici, possono essere gli stress termici, gli stress idrici, soprattutto in questi periodi di forte caldo, ma anche in inverno, soprattutto in periodi di forte freddo. Benissimo. 2021 è il quarto anno che otteniamo l'autorizzazione straordinaria per l'utilizzo del Weimark, un prodotto che si applica in manchetta. Quali vantaggi hanno visto i tuoi clienti in questo prodotto? Allora, l'idea che noi siamo riusciti a trasmettere ai clienti quel prodotto Weimark, ci siamo riusciti veramente bene, è quella di giocare tantissimo. E questo il prodotto ci ha dato tantissimo, perché come tu mi insegni, il prodotto va usato sia in preventivo, col bagnetto dei contenitori, ma anche subito il trappianto, quindi un post trappianto. Il prodotto è veramente efficace anche perché riduce di molto sia i costi ma anche a livello di utilizzo, dato che è un prodotto che tu riesci a utilizzare in manichetta e quindi eviti anche il lavoro dell'operatore. Durante la fertilizzazione? Riesci anche a fare il trattamento dell'insetticida. E così anche l'operatore non è esposto all'insetticida. Perfetto. E questo quindi ci ha aiutato tantissimo e facilita tantissimo il lavoro. Il prodotto ha risposto bene al mercato, perché i clienti oggi da soli richiedono il prodotto anche perché hanno visto l'efficacia e quindi che ho visto il digitale. . Grazie a tutti.